e questo è il modernismo al Veder e ancora, era il modernismo nel 2004 ma ora, ancora, nel 2018 con i vega venus fixtures questo è il buon Veder in via Marcantonio non mi ricordo il numero vado fino all'ultimo io non mi attendi allora sta al lato sta al lato il cab è ancora originale ma credo che credo che hanno fatto alcuni upgrade ora c'è un nuovo VF ora vediamo il video C'è il caido? C'è il nuovo vega virus C'è il caido New vega virus L'aziette L'aziette